seduto accanto alla leonessa che acudisce il proprio piccolo nella sezione che ospita la storia dell'evoluzione perfetto in tutta la sua imponenza che in vita sfiorava i 200 kg di peso è dal piano meno uno del museo delle scienze di trento che blanco continuerà a vivere e raccontare la storia degli ultimi leoni bianchi del kruger sacri alle leggende africane e ambiti trofei di braconieri e trafficanti fino al giorno della sua morte il 26 giugno dello scorso anno blanco ha vissuto al parco natura viva di bussolengo da leone bianco più vecchio d'europa maschio dominante di tre femmine dalle quali si è guadagnato sempre rispetto e considerazione da un po di giorni è uno degli animali esposti al muse con tutta la sua pelliccia criniera e scheletro esiste un ruolo che gli esemplari di specie a rischio di estinzione possono condurre anche oltre la propria vita spiega cesare avesani zaborra direttore scientifico del parco e blanco ne è l'esempio i suoi simili in natura colpiti da una forma di leucismo che rende loro il manto bianco e gli occhi dorati e azzurri sono stati avvistati per la prima volta nel 1938 e da quel momento sono stati oggetto di caccia illegale e commercio ad ogni genere la scienza li ha classificati solo negli anni 70 e oggi sopravvivono in 13 nell'area originaria del timbavoati oggetto di una protezione altissima ma da sé che il patrimonio genetico di blanco era prezioso in vita per la sua prole ma è un contributo inestimabile per la scienza anche dopo la sua morte ed è proprio per continuare a mantenere un patrimonio genetico che in natura è sull'orlo della scomparsa che questo re ha due successori ermelo e madiba sono i due giovani maschi di leone bianco due degli 81 esemplari presenti nei parchi zoologici d'europa arrivati da un parco francese per costituire un branco con safia lubaya e chianga trascorrerà ancora del tempo prima che le tre possono però accettarli ma quando accadrà la storia dei leoni bianchi del kruger avrà ancora un futuro